È un'esperienza intanto positiva per i ragazzi e poi è un'esperienza bellissima per la scuola e per la Locride. Questi ragazzi che vedete che sono qui intorno a me sono dei ragazzi che per una volta hanno fatto parlare della Locride in maniera diversa e noi siamo orgogliosi, io sono orgogliosa di essere la dirigente di questi ragazzi che si sono impegnati, che hanno avuto un grande senso di responsabilità e aiutati dalla professoressa Licciardello sono arrivati alla vittoria che è tutta meritata. Io ringrazio questi ragazzi perché per una volta ci hanno rappresentato bene e ci hanno rappresentato in maniera più che dignitosa. Quindi grazie ai ragazzi e poi grazie alla scuola perché la scuola riesce a tirar fuori da queste giovani generazioni il meglio che è possibile, tutto ciò che è possibile tirar fuori e questo è un orgoglio per il liceo classico ma anche un grande orgoglio per la scuola in generale calabresa e italiana. Sono ovviamente felice della vittoria, di questo riconoscimento, del fatto che si parli positivamente della Locride e che gli studenti della quinta C del liceo classico di Locri abbiano dato prova di serietà, di impegno, di determinazione e spirito sportivo. La trasmissione per un pugno di libri a cui hanno preso parte è una trasmissione sulla rete RAI, televisione nazionale. Quindi questo sicuramente è stato un palcoscenico importante che ci ha visto protagonisti di una bellissima sfida di cultura perché per un pugno di libri è una trasmissione creata con lo scopo di valorizzare la cultura generale degli alunni. Siamo partiti per sostenere la gara con la quinta A del liceo classico di Recanati insieme alla professoressa Bruzzese però la preparazione alla gara è stata lunga, impegnativa e ha richiesto un mese di lavoro e almeno un mese di lavoro sulla cultura generale e letteraria nello specifico. Ricordo anche che la quinta C è stata iscritta dall'iniziativa di un nostro alunno, Antonio Panetta che è stato anche il portavoce della classe che si è distinto bene in questo ruolo così come tutti gli alunni nel proprio ruolo. Solo fatto di trovarci qui oggi rappresentiamo sia il nostro liceo ma rappresentiamo anche quella sorta di velo che va a rappresentare leggere perché saper leggere ma soprattutto sapere entrare all'interno dei libri, viverli vuol dire anche sottolineare il fatto che le future generazioni, anche la nostra, sono sempre di più interessate, impegnate nella lettura di classici e non solo. Quindi la lettura ci servirà non solo per capire il presente ma per avvicinarsi soprattutto al futuro e al passato. È stata una bellissima esperienza, sicuramente positiva a livello personale, come componente della mia classe mi ha avvicinato ad ognuno di loro e ci ha dato la possibilità di aprire la nostra mente, di ampliare i nostri orizzonti e di andare oltre quelli che sono i nostri normali programmi scolastici. Ringrazio la preside, gli insegnanti, i miei compagni per avermi dato la possibilità di vivere questa bella esperienza.